Samattina abbiamo avuto come ospiti qui da noi i ragazzi della Spagna che in questo momento stanno in giro per la città di Salerno per apprezzare la nostra storia, la nostra cultura, la nostra arte. Poi vedranno la costiera amalfitana. Che cos'è l'esperienza di stamattina? È una delle tante gradevolissime esperienze formative che stiamo vivendo. In realtà nell'indirizzo liceo linguistico stiamo attivando una serie di settimane linguistiche e di scambi culturali. Per cui la nostra utenza sta facendo esperienze con Vienna, con Londra, con varie località della Spagna. E così sta accogliendo, sempre la nostra utenza sta accogliendo tutti coloro che riescono a partecipare a questo percorso di scambi culturali e linguistici. Il lavoro qui è tanto. Non ci stiamo occupando solo dell'indirizzo linguistico, ma anche dell'indirizzo delle scienze e delle scienze umane e sociali. Stiamo facendo una serie di attività. Ho dovuto necessariamente dare la priorità al piano sicurezza, formare il personale e soprattutto cercare di trovare l'opportunità, insomma crearmi un'opportunità per fare un adeguato piano sicurezza, congiunto anche con il tribunale che occupa una parte di questo istituto. Abbiamo una serie di attività programmate sia per quello che riguarda i PON e sia per quello che riguarda Scuola Viva. Abbiamo cominciato ieri con il PON Regione Campania e abbiamo visto che gli alunni sono molto contenti perché sono cominciate le attività anche legate all'arte, quindi danza, teatro, pittura, ceramica, oltre che alla robotica e a tutte le attività che garantiscono un successo non solo nell'ambito della istruzione, nell'ambito di una formazione mirata ad una cittadinanza globale e non solo digitale ma soprattutto morale, etica. stiamo lavorando bene, sono fiera di quello che stiamo facendo. Molti docenti sono motivati, decisi e intenzionati a lavorare come io preferisco, partendo dall'alunno, mettendo al centro dell'attenzione quelle che sono le esigenze dell'alunno, non le esigenze della scuola degli adulti, l'esigenza dell'utenza. La nostra utenza è fatta di alunni che hanno dai 14 ai 19 anni. Grazie per l'opportunità di essere riuscita a dire queste cose molto velocemente e non programmate. Mi auguro di potervi incontrare con i ragazzi che in questo momento sono in giro. In realtà i reali protagonisti dovevano essere loro, gli ospiti spagnoli e i nostri ragazzi che stavano proponendo un percorso che li vedrà interessati nei prossimi giorni. Io invece ero presa da molte altre cose ma sono stata gentilmente reclutata per spendere due veloci parole. Io rappresento 1200 alunni e questo mi motiva a cercare di fare sempre di più e sempre meglio, che poi è il mio motto per sopravvivere a questo particolare impegno, a questa professione che giorno per giorno diventa sempre più faticosa e difficile. Quindi la motivazione ci salva e ci salvano gli alunni. Se loro non ci fossero noi non avremmo motivo di preoccuparci di altro. Ringrazio tutti coloro che riescono a seguirmi perché spesso mi dicono che sono chi fa la battuta e dice va a 300 all'ora, chi dice questa preside è vulcanica, non riusciamo a starle dietro. Noi invece no, vedo che faticosamente ma ci riusciamo. Quindi ringrazio tutti coloro che ci credono, che ci credono ancora, che rispettano la scuola dello Stato e che soprattutto la amino.